ehi buonasera bello a tutti ragazzi oggi unboxiamo una cosina speciale abbiamo comprato dei biscotti di shinchan infatti questi qua sono tipo di cereali molto carini non sono biscotti o cereali penso che sono tipo cereali vedi dovremmo aprire uno per vederlo è molto carino la scatolina e la cosa è che dove sta ecco qua giro tanto è uscito un film di shinchan e chi lo sapeva ma non portano gioco la roba in italia purtroppo che a quanto pare può uscire una di queste figu di questi bad boys poi con i figu un box del buio chissà che cosa ci capiterà aspetta il retro perfetto come deve essere gira 3 2 1 via è una giraffa shinchan giraffa che mangia delle rubette bravo mangia le verdure io c'ho shinchan giraffa ed eccolo qua eccolo qui in effetti è vero ok guys che cosa fanno queste con la stellina quelli rari può essere ragazzi cliccate like a un like ne compro un altro è vero cosa c'è perché non becco quelli con la stellina dai non becco che Grazie a tutti.